la strigna oh ma io non capisco tutta sta gente la usalone chi c'ha la chiamata fammi un po' me tassete che me dorgono e garaulle sì re la vostra stringitura che si è rotta la fognatura? la stringitura dei cachi ah grazie cazzo scendono i frati vorrebbe sapere francesco francesco carlo sindicalo? oh faremo smorzare i radiatori comunque non so più quelli che li appiccicusi eh oh o sai che è un marchese di struttura un'altra volta gli dà via la moglie? che c'ha gli voglie? a moglie? no e voglie e voglie sottetate un schiaffo su a mano aperta ah è arrivata a San Alberto se non d'armiti l'apparecchio per fare un guardascito eh sì è morto bucanito ma com'è successo? senti ma hai ruttito i coglioni e fatta da un culo ma ma com'è fatta a cercarlo il culo? io chiedo la separazione certo tu c'ha chiugano io so coglione ok ok grazie a tutti 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 grazie a tutti